buongiorno a tutti allora inizia la lunga nottata del gigione perché il gigione adesso dovrà fare le qualifiche della moto gp le qualifiche quindi la pole position anche per la formula 1 dovrà parlarvi di quello che è successo tra manchester city e lione e non ci si crede ed è veramente da mi non ci posso credere e poi finalmente forse riuscirà ad andare a letto ma a bando alle ciance ciancio alle bande facciamo sempre vedere la magliettina di sportante di torni che fa sempre piacere farla vedere visto che ormai siamo agli ultimi giorni anche della maglietta poi da settimana prossima c'è dai video di lunedì barra martedì avremo la new entry perché ho quattro magliettine nuove 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 con frasettine nuove 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 che non avevo mai utilizzato comunque bando alle ciance ciancio alle bande andiamo a vedere quello che è successo in moto gp gran premio d'austria e il q1 al quale ahimè partecipa anche valentino rossi perché nelle prove libere non ha fatto il tempo dei migliori quindi alcuno partecipano zarco petrucci rossi craccio lecuna binder attenzione c'è anche binder quello che ha vinto settimana scorsa pirro a lei se spargarò a lei smarquez o a cosa accadrà in questo q1 queste qualifiche per guadagnare il q2 dopo la prima metà delle qualifiche la classifica vede al comando zarco davanti a petrucci e rossi che dietro di soli 18 millesimi dal suo connazionale appunto petrucci quindi scusate la classifica parziale è la seguente primo zarco secondo petrucci terzo rossi quarto alex marquez quinto craccio sesto binder settimo lecuona ottavo a lei se spargarò nono smith diecimo bradl undicesimo ravaba dodicesimo pirro io mi stop un attimo e poi proseguiamo bene 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 proseguiamo proseguiamo perché nella seconda parte del q1 della prequalifica chiamatela come volete c'è un incredibile valentino rossi che con l'ultimo giro riesce a stare davanti a petrucci per soli due centesimini guadagnandosi appunto il q2 ma c'è un fatto brutto 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 nel giro precedente perché praticamente c'era petrucci dietro a rossi si è infilato a lei se spargarò in mezzo si è messo come si suol dire in mezzo ai testi e praticamente cosa è successo petrucci ha saltato superato rossi però ce l'ha sempre in mezzo alle scatole pole a lei se spargarò e quindi praticamente lui ha sorpassato a lei se spargarò però si è reso conto che gli ha fatto perdere un botto di tempo quindi si è girato gli ha fatto il gestaccio così a lei se spargarò si è reso conto di aver fatto una puttanata terminato perdonatemi il termine alzato il braccino gli ha fatto ciao ciao e si è scusato però era nel giro lanciato magari petrucci in quel giro poteva fare un ottimo giro portarsi davanti a rossi che invece l'ha beffato nel giro successivo quindi adesso andiamo a vedere quali sono i magnifici giro 12 che si giocheranno la pole position tenendo conto che zarco era già primo c'era solo petrucci e rossi che si sfidavano vicendevolmente per cercare di passare al q2 comunque ecco i magnifici giro 12 che si giocheranno la pole position pole spargarò dovizioso vignales miller nakagami rins olivera mir morbidelli quartararo e appunto zarco e rossi che arrivano dal q1 dopo il primo step la pole provvisoria è di vignales davanti a quartararo e miller ma sono tutti piuttosto vicini vicini come diceva qualcuno quindi attenzione perché la seconda parte potrebbe regalare qualche sorpresina una q2 veramente pazzesca ma alla fine zitto zitto cacchio cacchio è vignales ancora una volta a tenersi la pole position davanti a jack miller visto la sorpresa jack miller e a fabio quartararo purtroppo solo dodicesimo valentino rossi per quanto riguarda invece gli altri italiani direi che è andata benino perché non male dovizioso quarto in seconda fila non male morbidelli settimo in terza fila ahimè rossi è in quarta fila ultimo della quarta fila e anche stavolta dovrà fare una gara in rimonta come ha fatto una settimana scorsa che però partiva comunque un attimino meglio era decimo se non erro però siamo sempre lì e sempre quarta fila quindi dovrà pronti via cercare di recuperare subito posizione nei primi giri cercare di portarsi sotto poi la gomma si deteriora eccetera 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 comunque questa è la griglia di partenza del gran premio d'austria di moto gp prima fila vignales miller quartararo e ci sarà già da divertirsi tra vignales e quartararo e magari miller anche lì zitto zitto cacchio cacchio tra i due litiganti il miller gode magari nei primi giri poi è logico che vignales e quartararo faranno valere la loro yamaha yamaha attenzione però perché in seconda fila abbiamo un dovizioso bello arrembante a fianco a un pole spargarò e un mir che i testi a tutti e tre davanti li possono rompere facilmente quindi abbiamo morbidelli rins e zarco in terza fila nakagami olivera rossi in quarta petrucci alessi spargarò e craccio in quinta le cuona binder che stavolta un attimino lasciata desiderare solo diciassettesimo e alessi marquez in sesta fila brend smith e rabà in settima e zitto zitto poverino ultimissimo dietro a tutti il povero pirro detto questo vedremo oggi pomeriggio cosa succederà perché la gara interessante come dico sempre quando il gatto non c'è il gattone mar marquez non c'è i topolini se ne possono approfittare e divertirsi quindi può darsi che magari sia una bella gara combattuta sperando che come al solito non ci sia uno che prende parte dice ciao io me ne vado e vi lascio combattere a voi io per il primo posto me lo prendo me lo tengo e vi saluto detto questo vi saluto anch'io ci vediamo ai prossimi video ciao